ben ritrovati ben ritrovati su in genere horror io sono sempre greg periodo estrivo un po fiacco di uscite cinematografiche anche su piattaforma streaming allora si rispolvera come faccio spesso la rubrica dedicata ai cult ed eccolo un cult grano rosso sangue è un film del 1984 diretto da fritz kirsch è tratto dal racconto da un racconto intitolato i figli del grano che è contenuto nella raccolta a volte ritornano di stephen king ed è un film che narra la storia di una coppia che è in viaggio in auto per le strade semideserte deserti di campagna del nebraska investono un ragazzino che sbuca fuori all'improvviso dall'immensa distesa di campi di grano ma la cosa strana è che il motivo del decesso è un taglio in realtà un profondo taglio alla gola che ha questo ragazzino quindi i due lo caricano in macchina caricano il corpo in macchina e si dirigono verso la cittadina più vicina che è gatlin dove non in realtà non ci sono adulti ma solo ragazzini con a capo isaac e questo gruppo di ragazzini ha sterminato tutti gli adulti di gatlin di questa cittadina cioè tutti quelli che sono sopra i 18 anni e questo gruppo di ragazzini è dedito ad uno strano culto anzi è una vera e propria setta legata al signore dei filari e la vita dei nostri protagonisti adulti ovviamente sarà messa in serio pericolo è un film molto conosciuto dagli appassionati di cinema horror è stato un grande successo di pubblico l'uscita in sala soprattutto in base al ridotto budget ma soprattutto nel corso degli anni successivi è diventato un vero e proprio un vero proprio cult sebbene steven king non lo ami particolarmente ma di solito dico io sono proprio i film che lui non ama particolarmente quelli i migliori senza citare i grandi capolavori tratti dai suoi romanzi diciamo che questo più cult che un filmone anche se insomma è un film a basso budget ai suoi difetti qualche passaggio narrativo che magari è un po forzato e negli effetti speciali se vogliamo che sono un po discutibili anche per per gli anni 80 ma sono alla fine funzionali alla storia perché un po tutto funziona ottima l'interpretazione di linda emilton nel suo personaggio così come le rappresentazioni di questi ragazzini inquietanti tra cui proprio più inquietante il capo isaac anche se poi ci saranno altri elementi del gruppo che si faranno notare per per essere effettivamente inquietanti e importanti nella nella vicenda un film che regala situazioni e momenti di sangue come dicevo abbastanza forti soprattutto all'inizio del film e poi anche durante con queste atmosfere che si distanziano se vogliamo un po da quello che è il breve racconto di steven king ma che nel complesso è uno di quei classici bimovie anni 80 che hanno anche lasciato un segno se vogliamo questo film il suo segno lo ha lasciato nel rappresentare di essere uno dei rappresentanti di quel sottogenere di film con i ragazzini che ammazzano gli adulti per sintetizzare al massimo la la cosa e che comunque se spesso se fatti bene se fatti bene spesso sono veramente inquietanti inquietano e non poco se pensiamo tra l'altro a uno dei film che mi vengono in mente che è quello splendido terrorizzante horror spagnolo di narciso i bagnes serrador che è ma come si può uccidere un bambino di cui tra l'altro se volete abbiamo parlato io e simon di sin theory time nell'uvufufu dedicato ai migliori horror degli anni degli anni 70 per quanto riguarda invece grano rosso sangue che dicevo essere un film comunque straconosciuto che è diventato un cult lo si può trovare facilmente ancora in dvd nelle vecchie edizioni ma se volete dovrebbe esserci ancora in commercio il bel cofanetto della midden factory che comprende è una limited edition blu ray che comprende la trilogia originale se vogliamo visto che poi ci sono svariati seguiti sono versioni televisive c'è anche un remake leggermente più recente ma bene o male sono tutti trascurabili è questo il film che incide maggiormente soprattutto rimane uno dei dei b movie cult degli anni 80 ditemi al solito cosa ne pensate di questo film ne approfitto per ricordarvi che vi potete seguire anche sul mio profilo instagram che è lo stesso nome in genere horror mettete mi piace questo video condividetelo insomma iscrivetevi se vi va di sostenere il mio canale potete fare totalmente in modo gratuito oppure vi super grazie per chi volesse sostenerlo anche economicamente come al solito lasciate i vostri commenti e noi ci rivediamo alla prossima